Lanciano a tre punti dall'eccellenza vince anche contro il Piazzano la squadra di Alessandro del Grosso a cui basterà vincere col Casalbordino domenica prossima per ottenere la seconda promozione consecutiva dell'era Fabio De Vincentis alla presidenza. Lanciano incerottato ma chi scende in campo a Monteparcone di Atessa fa esattamente quello che doveva fare conquistare i tre punti tra i pali c'è Mattia Di Vincenzo con gli under Boccaneri e Trisi esterni bassi a metà campo stringe i denti Petrone mentre De Santis viene sistemato ancora come mezzala dopo l'ottima prestazione di Coppa si ripeterà su alti livelli anche contro il Piazzano in avanti Sardella si sacrifica e fa reparto con Di Gennaro e Alex Cianci mancano gli attaccanti e la metà campo nessun problema per il Lanciano per superare la difesa bianco-rossa ci penserà la difesa ad andare in rete con il jolly De Santis ed il centrale difensivo Alessio Natalini sfida non certo agevole per i frentani al cui cospetto c'è un Piazzano che resiste un'ora e passa ma nella ripresa deve subire il Lanciano che dilagherà cronaca comunque ricca si parte al quattordicesimo con Cianci imbeccato da Di Gennaro che prova di incrociare ma il suo tiro viene smorzato in angolo da un difensore bianco-rosso corner e Boccanera conclude alto di testa Petrone resiste in campo poco più di un quarto d'ora al diciassettesimo al suo posto del grosso butta nella mischia Gian Cristofano nel ruolo di Mezzara un centrocampo quello rosso-nero del tutto nuovo Sardella prende in mano il fronte offensivo ventesimo l'esterno rosso-nero mette in area un pallone teso per Cianci che manca di un soffio l'appuntamento con il gol ventunesimo ancora conclusione di Sardella potente ma centrale si vedono i padroni di casa ventiseiesimo tentativo di Fonseca bloccato a terra da Di Vincenzo trentaduesimo ancora Piazzano con un sinistro alto di Bosco su assist di Fonseca dalla corsia di destra l'occasione più nitida per la capolista ce l'ha al quarantaquattresimo Piero Scudieri che manda clamorosamente al lato di testa da pochi passi la palla del possibile vantaggio la ripresa a settimo minuto sinistro a volo su seconda palla di De Santis all'angolino e il vantaggio mette in discesa la contesa per i frentani undicesimo sinistro di Di Gennaro deviato di poco alto sulla traversa da un difensore del Piazzano sedicesimo si rivedono i padroni di casa con un destro di De Menna al lato ventiduesimo ancora Sardella ci prova con una conclusione a giro dagli sviluppi di un calcio di punizione respinge l'estremo difensore e Natalini non è preciso nel tap in ventinovesimo miracolo del portiere del Piazzano su un colpo di testa a botta sicura di Ciccio Di Gennaro trentunesimo altra occasione per i frentani avvantaggiato per Boccanera cross per De Santis e miracolo di Di Tollo che salva trentaquattresimo punizione di avvantaggiato per la testa di Natalini che trafigge il portiere con un colpo di testa sul palo lontano quarantaquattresimo sbaglia a Scocek davanti all'area di rigore Di Gennaro ne approfitta e comodamente realizza il 3 a 0 ora al Lanciano basterà vincere un'altra partita e l'eccellenza sarà realtà altro aspetto da sottolineare con i 109 gol messi in cassaforte il Lanciano conquista il primato in fatto di gol realizzati in promozione l'appuntamento è a domenica prossima contro il Casalbordino l'appuntamento è a domenica prossima